e lì vediamo un erano in scena e continuiamo con la storia del 19.185 marco lazio club a monaco dal cuore della baviera col suo telefono perché non ho attrezzatura perché non sono a monaco di baviera ragazzi bensì sono nella innevatissima che armish pattern che non si vede niente perché è buio e notte e sta nevicando non so se si vede probabilmente sì non lo so comunque si sono sotto la neve per tornare a parlare della nostra amata e adorata lazio di quello che non è successo durante questo calcio mercato ebbene sì ragazzi perché alle ore 20 il giorno corrente si è chiuso un calcio mercato probabilmente tra i più imbarazzanti di questa gestione dai più vergognosi di questa gestione uno dei calci mercato che ha più degli altri segnato la presa in giro nei nostri confronti nei confronti di noi tifosi nei confronti di tutto quello che è l'ambiente lazio e io ci metto a me dispiace per tutti quelli che so anti sarristi ma anche una presa in giro nei confronti della natura sarri perché aveva chiesto dei nomi che puntualmente non sono stati non sono arrivati e non sono stati rispettati delle promesse che non sono state mantenute grazie a tre serato cabral e camenovic camenovic è un giocatore che già dalla scorsa estate non rientrava nei piani della società o meglio dell'allenatore cabral da quanto mi è stato detto da quanto ho capito era in fondo alla lista dei desideri di sarri ma c'erano molti altri prima che avrebbero potuto soddisfare le sue esigenze il tutto perché questa società vive in maniera completamente disorganizzata ragazzi ebbene sì non si vede in cazzo mannaggia scusate oggi sono pieno di parolacce ragazzi io non sono arrabbiato questa è la classica frase che fanno i padri da famiglia con i ragazzi che vanno bene a scuola io sono molto deluso deluso dall'ennesima presa in giro deluso da quello che erano delle aspettative che secondo me avrebbero potuto essere altro e non lo sono state io speravo nel mister io speravo che un nome di spessore come quello di sarri sulla panchina avrebbe portato qualcosa su questa società e non l'ha portato anzi ha fatto ancora peggio perché questo è stato il peggior mercato non il mercato di preparazione il peggior mercato di questa gestione nonché della storia della Lazio almeno da quando c'ho vita io perché io non mi ricordo i mercati prima da inizio degli anni 90 però da quando c'ho coscienza questo è stato il peggior mercato che io abbia abbia visto con i miei occhi da quando sono tifoso della Lazio perché sono stati presi dei giocatori inadatti i giocatori che non soddisfano la necessità dell'allenatore e tutto a causa di una magistrale disorganizzazione io so del parere che in alcune occasioni si possa navigare a vista ma cazzo cazzo porca puttana del cazzo non è da oggi che sappiamo che la Lazio ha delle difficoltà a centrocampo in difesa in attacco e bla 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 perché il mercato estivo per quanto sufficiente era sicuramente carente mancava qualcosa e si sapeva già da agosto e da agosto a gennaio non è cambiato un cazzo non è cambiato non è cambiato un cazzo io adesso non mi metto nel ruolo di qualcuno che fa questo lavoro e ne sa sicuramente più di me ma la programmazione a parer mio è una cosa che si fa nel corso dell'anno intero io finisco il mercato di scusa finisco il mercato cazzo finisco il mercato estivo ho preso questo e questo bene a posto mister che gli manca ma manca il difensore mi manca un centrocampista esempio ok che faccio io a società mi scrivo ad agosto il mister dice mi manca il difensore mi manca il centrocampista con queste queste caratteristiche io ad agosto inizio già a cercare il calciatore che mi chiede il mister questo non è stato fatto almeno da quanto ci è stato dimostrato in questo mercato perché i calciatori non sono stati comprati tu ad agosto sai già che a gennaio avrai un problema di indice di liquidità che è diventata la parola incubo dei non laziali già lo sai ripeto io non ne so niente ma secondo quelle che so i dettami di un sistema organizzativo dico ok come faccio ad agosto come faccio a sbloccare l'indice di liquidità a gennaio e quindi magari inizio già ad agosto a chiedere chi io vuole lukaku chi io vuole durmisi chi io vuole johnny chi io vuole murici cioè inizio a programmare con largo anticipo di modo che arrivo poi alla sessione di mercato pronto per cercare di soddisfare esigenze del mister molti colpi o presunti tali non sono stati messi a segno perché siamo arrivati come sempre troppo tardi perché in un mese di mercato noi il mercato lo facciamo negli ultimi due giorni quindi 29 30 31 tutti i giorni ci mettiamo lì e cerchiamo di portarci a casa quello 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 che è con tre giorni cerchiamo di prendere 400 giocatori ma che cazzo sta da fa che cazzo sta da fa c'è stata prende in giro ci state prendendo in giro e io sempre io mi sono sempre ritenuto un moderato un meritocratico uno che le cose sono fatte bene sono fatte bene cosa ho fatto male sono fatte male ma oggi ci state prendendo per il culo perché la lazio è l'unica squadra della serie a che non ha preso i giocatori che la possano rinforzare io mi auguro con tutto il cuore che kamenovic e cabral siano i l'attaccante difensore più forte che abbiano presa la lazio nella loro storia me lo auguro con tutto il cuore ma in quanti di voi hanno questa speranza penso nessuno lo schifo che è stato fatto durante questo mercato è una cosa indecente indecente e chi ci rimette siamo noi perché stasera chi si occupa del calcio mercato dormirà tranquillo nel suo letto e non gliene fregherà un cazzo non gliene fregherà io invece stanotte io me ne torno a casa sotto la neve e starò a farmi girare i coglioni perché perché mi aspettavo che mi compravano casale casale parisi e porca puttana lasagna ma andava bene lasagna cristo no non è stato preso manco quello allora mi girano i coglioni mi girano veramente perché mi sento preso per il culo perdonatemi se stasera uso un linguaggio veramente veramente stasera il video che fa schifo spero che l'audio sia buono e uso un linguaggio veramente poco consolo in canale youtube non me ne frega un cazzo non me ne frega perché oggi si è coronata la regina sovrana delle prese in giro e leggevo dell'insoddisfazione di sarri e vi posso dire una cosa lo dico perché io voglio tanto io voglio proprio bene io non sono affezionato tanto a sarri so che tanti secondo principi secondo me senza logica però lo criticano se sarri non firma rinnovo e a giugno ci manna a fanculo fa la meglio cosa fa e ne va e ne va del bene della lazio e così avremo davvero quel messaggio che noi aspettiamo da tempo da tanti allenatori che hanno sempre detto sì 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 vedremo cosa succederà quindi io personalmente sto con la bava alla bocca sto avvenenato avvenenato e non si vede molto sto cercando anche perché è buio ma sto cercando di nascondere la cosa ora ragazzi speriamo che dopo questo non mercato si arrivi a a concludere la stagione in maniera decente ma devo essere sincero io non ho più neanche speranze in quello che il mercato estivo perché se questa è stata quello che doveva essere il mercato di rivoluzione nella sessione invernale col nuovo allenatore in cui avremmo dovuto vedere delle cose migliori non è successo beh allora probabilmente c'è la macchina belli ai conosco per davvero i conosco sarai con scoperta se questo è quello che dovevamo assiste io non mi aspetto niente in estate anzi aspetto il nulla più totale come è stato quest'anno ragazzi ditemi cosa ne pensate nei commenti io immagino che siete tutti abbastanza inviperiti tutti incavolati come lo so io come lo siamo tutti noi razziali tanto lo sappiamo bene che restiamo sempre fortemente innamorati la cosa più importante non è che sia da monaco o a garmi scesotta neve la cosa più importante ragazzi è sempre solo forza l'azio sempre